Cari amici, la fede si può coniugare con il turismo? No, no, non è un discorso blasfemo che sto facendo, è semplicemente un discorso che permette di seguire le antiche vie della fede, di fare dei pellegronaggi attraverso l'Italia usando l'automobile. Sono le antiche vie della fede una collana di sette e-book firmata da Pietro Tarallo, curata da Nicoletta Salvatori, che vi consentirà di fare con tutta la vostra sincera fede dei viaggi attraverso l'Italia, scoprendo anche un'Italia molto diversa, un'Italia un po' dietro le quinte, un'Italia vera, un'Italia che vale la pena di scoprire, specialmente durante le vacanze.